Una storia senza uguali, un ardò strabordante, capace di rifilarne quattro ombrindisi sempre più a picco e di prendersi di prepotenza il primo posto in classifica, un traguardo temporaneo, è vero, ma che poi deve far sognare, quasi impensabile fino alla scorsa estate, quando i nerretini per qualche mese furono vergognosamente mandati in eccellenza da un'ingiusta mossa d'ufficio, sia perché quella squadra con foglia manzilo alla guida dava segnali di crescita importanti e l'impressione di potersi tirare fuori dalla zona rossa e sia perché è stato messo da parte il buonsenso, senza tener conto del momento delicato in cui versava il paese, giusto fermare il campionato, meno condannare un club a una retrocessione con ancora tante partite per poter rimediare. Il 14 luglio 2020, quindi, il club del presidente Donadei deposita la domanda di riammissione in Diel 31 agosto, giustizia è fatta, quindi un mercato in fretta e furia, ma comunque studiato e oculato per piazzare colpi, come Tornoros e Caputo, solo per citarne due, di calcio devi capirne. Un mix di giovani ed esperti che alla fine ha pagato e un entusiasmo contagioso nello spogliatoio e la scelta di puntare su Danucci, fino a qualche settimana prima calciatore, e poi diventato il pirlo di Nardò per fare un paragone con quanto accaduto sulla panchina della Juventus, dimostra il coraggio di una società che lavora unita e spedita verso un'unica meta. Inutile sottolineare come questa compattezza dirigenziale si sia riflessa a specchio sul campo. Il Nardò è primo, grazie ad ogni sua componente nel girone H di serie D, temporaneamente perché il Taranto dovrà recuperare ad esempio tre partite, ma intanto si gode il momento e un'autostima che può soltanto aumentare.